Un innovativo cavalcabile dal design moderno, dalle linee morbide e fluenti, colori tenue e rilassanti che si fondono con l'arredo circostante. Ginetta, baston click, ed è subito pronta per l'uso. Le ruote anteriori ruotano a 360 gradi, offrendo al bambino la possibilità di muoversi avanti, indietro, girare su se stesso in tutta facilità. Ginetta è il cavalcabile perfetto da usare a casa e di spazi ristretti. Le ruote con cuscinetti a sfera sono rivestite con gomma sintetica e non lasciano segni o graffi sul pavimento. Ginetta è anche molto silenziosa e per questo molto apprezzata da genitori, ma anche dai vicini di casa. Un'altra caratteristica apprezzata dai bambini è il vano di carico segreto nella parte posteriore, dove possono caricare piccoli oggetti di loro interesse. Ginetta stimola l'esercizio fisico e le attività motore in spazi anche ridotti e permette ai bambini un movimento in ogni direzione grazie allo sterzo intuitivo. Inoltre le ruote ampie di Ginetta permettono il suo utilizzo anche all'esterno su superfici pavimentate lisce. È unica e distintiva nello stile grazie al suo design pulito e arrotondato, facile da pulire, robusta, impilabile e in tre colori. Ginetta è un prodotto 100% made in Italy. Italtraik, Kids on Wits